Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni di TV6. Nel corso di questa domenica, giorno dell'equinozio di primavera, avremo una giornata ancora dai tratti invernali a causa di aria più fredda proveniente dall'est Europa, quindi aria molto fredda che porterà non solo a un calo termico ma anche a precipitazioni sparse e nevicate, sino a quote interessanti. Tempo più instabile per quanto riguarda il sud del Medio Basso Adriatico, più stabile e solleggiato al nord eccetto qualche rara nevicata a ridosso dell'arco alpino. In Abruzzo giornata piuttosto instabile con tanti nubi, soprattutto tra la mattina e il pomeriggio possibilità di piogge sparse e nevicate, generalmente oltre i 600-700 metri di quota fenomeni comunque abbastanza irregolari, non particolarmente intensi. Temperature in ulteriore lieve calo, soprattutto nelle minime, valori tra meno 1 e 6 gradi all'alba massime tra 6 e 12 gradi. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni